Ho detto prima, per l'EFT parla Stefano Calieni, l'EFT è una rivista con cui collaboriamo permanentemente, con cui abbiamo edito anche diversi libri, poi per l'Europa federale, scherzo, per l'Osservatorio europeo Andrea Amato. Beh, parlo per l'EFT ma ovviamente parlo anche come esponente di rifondazione comunista e devo dire che l'intervento di Patrizia mi ha sollecitato parecchio rispetto a come potrebbe provare a cercare di funzionare meglio. Il tempo è scaduto, non puoi provare. Era una provocazione voluta, chiaramente. Dunque, rientrando nel tema EFT, devo dire che come testata, sia come sito che come testata, EFT trasformano parecchie similitudini. Lasciano parecchio spazio al dibattito fra diversi, permettono l'incontro fra opinioni e fra cervelli, oserei dire. Ognuno poi, chiaro, con una propria griglia. Però su alcune tematiche ci sono dei punti di caduta che sono terribilmente comuni. Io parto da quello che è il punto, a mio avviso, principale, quello per cui è stata organizzata questa ottima giornata per quanto riguarda la profondità e l'acutezza di alcuni interventi, ovvero la guerra. A me ieri è capitato, né per l'EFT né per rifondazione, ma questa è un'altra storia, di intervistare un generale, il generale Mini, il quale rispetto a una domanda sulla guerra, sul fatto che, quanto si parli di guerra, mi ha dato una risposta molto secca e netta. Il fatto che si parli normalmente di guerra, dobbiamo impararlo, significa che in guerra ci siamo già. Ma non quella dei giornali o quella dei documenti del Consiglio d'Europa, quella che infatti è diventata cultura dominante, nonostante le popolazioni, soprattutto in Italia e nei paesi mediterranei, mostrino contrarietà all'utilizzo delle armi, all'invio di armi, eccetera, è diventata un elemento, una sorta di normalità, cioè non sconvolge, non fa notizia, non crea nessun tipo di allarme neanche culturale, non dico soltanto sociale, non modifica, è considerata come parte del quieto vivere, oserei dire, è terribile come contraddizione, forse perché non la vediamo ancora nei nostri edifici, nelle nostre case, forse perché ci appare più nei media, sui social, che compreso il numero delle persone che ci lasciano la pelle, soprattutto civili, all'ottanta per cento si tratta di civili, però c'è questa sorta di cortocircuito. La guerra ci fa paura, ma la guerra è diventata una questione normale. Io, qualcuno l'ha anche accennato oggi, tento di essere il più breve possibile, a me la cosa che lascia interdetto, profondamente interdetto, che non ho capito, quindi probabilmente sarà un limite mio che riporta un po' alla discussione e a chi magari ne capisce più di me, oggi soprattutto, stamattina, mattinata soprattutto, anche tenuto alto il livello del dibattito, e questa contraddizione è assurda. Io mi occupo molto di immigrazione, chi lo sa, con le guerre l'aumento delle persone costrette all'immigrazione forzata è aumentato in maniera micidiale. Cosa sono per un paese come l'Italia? 150.000 persone giunte in un anno? Nulla rispetto a 60 milioni in uno dei paesi più ricchi del pianeta. Dall'Ucraina ne sono arrivati 170.000 nello stesso periodo e anche lì, anzi, addirittura hanno creato meno malessere, meno problemi, forse perché la pelle bianca crea meno problemi che la pelle diversamente pigmentata. Ma al di là di questo, si tratta di non scelte di immigrare, ma di persone che sono costrette a vivere in condizioni assurde qui nel nostro paese. E questo accade mentre, e in Italia, l'Italia è il paese in cui il fenomeno è più acuto, l'intero continente europeo, anche attraverso l'aver accettato l'essere protagonista, come starò detto questa mattina, non connivente osservo, ma coprotagonista nelle scelte di guerra, muore come continente. Muore per ragioni anagrafiche. L'Italia è il paese per cui l'inverno demografico è più vicino. Il numero delle persone in età da lavoro e il numero di persone in pensione si sta sempre più avvicinando. Interi comparti produttivi non potranno più essere coperti. E non parlo dei lavori peggiori, quelli che non vogliamo fare, che noi bianchi italiani e maschi soprattutto non vogliamo fare. Ha ragione Nicoletta a insistere su questa, sull'elemento intersezionale. Ma anche quei lavori che le nostre generazioni non riescono più, non sono in grado di fare. I nativi digitali, quelli che entrano nel mondo dell'intelligenza artificiale, quelli che pensano al lavoro del futuro. Beh, noi questo continente lo stiamo uccidendo attraverso il fatto che entrano a fatica e lasciandoci la pelle in mare o sulla rutta belcanica, quelli che crepano grazie alle guerre che noi abbiamo prodotto, e non entrano, se non col contagocce, le persone che arrivano per poter costruirsi un futuro nel nostro, chiamiamolo nostro paese. Il danno non è soltanto economico e sociale, perché se si arrivasse ad un continente in grado di garantire, questa per me è un'idea di sinistra, in grado di garantire a chi vuole formarsi qui nel nostro continente, nel continente in cui abitiamo, una migliore qualità della vita, una maggiore complessità di competenze, per poi poterne decidere autonomamente cosa farle, se riportarle nel proprio paese o se esportarle in un altro paese, non diventando merce ma essendo soggetto, quindi diventando attore di se stesso, beh, noi probabilmente avremo un continente in via di sviluppo, continente che guarda in avanti. Invece la nostra sarà l'ultima, è già l'ultima generazione, parlo di nostra pensando ai presenti, che vive molto meglio rispetto ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri bisnipoti, che attraverso l'incrocio assurdo, inverno demografico, guerre come strategia normale di vita, il neoliberismo che domina su tutto rischia di far naufragare l'idea di Europa e di Occidente. E mi collego a una battuta finale. Oggi il segretario di rifondazione Acerbo ha colto il timore, una osservazione a mio avviso molto puntuale rispetto al fatto che il rischio della perdita dell'universalismo, il rischio del finire una sorta di scontro fra barbari e scontro fra mostri che creano altri mostri. Noi in questo mondo ci stiamo già. A chi, se non ne ha un minimo di consapevolezza, può aspettare l'onere, non l'onore, semplicemente l'onere di cambiare lo stato di cose esistenti? Grazie, grazie Stefano.